Ciao ragazzi, benvenuti nel ventesimo episodio della serie su JavaScript. Come vedete, io ho già creato tre oggetti che rappresentano dei utenti, ognuno dei quali ha due property, un username e un email. E poi due metodi, una funzione che ci fa loggare e una che ci fa disconnettere. Ma cosa notate in questo codice? Ve lo dico io, stiamo ripetendo lo stesso codice per ogni utente che creiamo. Immaginate quanto codice dovremmo scrivere per avere banalmente solo 10 utenti, ognuno dei quali avrebbe le stesse due property e gli stessi due metodi. Ma non esiste un modo per creare un nuovo utente più velocemente e senza dover riscrivere tutto questo codice? Non c'è un modo ad esempio per creare un utente in questo modo? Quindi definendo una nuova variabile, ad esempio utente4 uguale new a new utente o qualcosa del genere? Beh, ovviamente sì, e ci sono diversi metodi per farlo. Noi vediamo come fare usando le classi. Le classi su JavaScript in realtà non esistevano quando è nato il linguaggio, ma sono state aggiunte con degli aggiornamenti e per questo motivo non a tutti piacciono. Ma siccome sono uno strumento comodo che esiste già in altri linguaggi, noi lo studiamo comunque. In particolare le classi sono dei template per gli object che abbiamo già visto. Ma come facciamo a capire se usare gli object o le classi per un certo problema? Beh, se abbiamo un solo oggetto, quindi in questo esempio se avessimo un solo utente, andrebbe benissimo usare gli object. Ma nel caso in cui vogliamo avere più istanze dello stesso oggetto, quindi appunto più utenti in questo caso, è meglio usare le classi. Perché le classi ci permettono di creare più oggetti contemporaneamente usando una cosa del genere. Una classe rappresenta un concetto che descrive un oggetto particolare, che può essere della vita reale, ma non in maniera specifica, quindi personalizzabile. Pensiamo ad una classe persona, che ha una property nome. Esisteranno poi varie istanze di questa classe, ossia vari oggetti, varie copie, ed ognuna sarà diversa dall'altra. In un caso il nome della persona può essere Mauro, in un altro caso Leonardo, in un altro caso ancora Lucia, e così via. L'importante è capire che noi non specifichiamo un nome nella classe persona, ma lo facciamo nei singoli oggetti che creiamo derivanti da quella classe. Ok, vediamo come creare una classe per il nostro utente. Quindi questi objects li possiamo cancellare. E prima di tutto dobbiamo specificare che stiamo scrivendo una classe, usando la keyword class. E poi diamo un nome alla nostra classe. Ovviamente come per le variabili è a nostro piacere. Io ad esempio lo vado a chiamare utente. E poi mettiamo due parentesi graffe. Bene, quindi questa è una classe vuota utente. Ora la prima cosa che dobbiamo definire all'interno di una classe è il costruttore. Il costruttore è un metodo che viene richiamato automaticamente quando creiamo un nuovo oggetto di una classe. Il costruttore si definisce scrivendo constructor. Vedete che Visual Studio Code ce lo suggerisce in automatico. Poi due parentesi tonde e due parentesi graffe. E adesso la trattiamo come una normale funzione. Quindi ovviamente può richiedere dei parametri all'interno di queste parentesi tonde. E la logica, come sempre, va scritta all'interno delle parentesi graffe. Per esempio stampiamo sulla console un messaggio, ad esempio, oggetto creato. Ora andiamo a creare un nuovo oggetto di questa classe. Quindi io l'avevo già creato. Semplicemente lo vado a rinominare utente1. Quindi var utente1 uguale new utente, dove utente è il nome della classe. E poi due parentesi tonde. Ora salviamo il codice. Andiamo nel browser. Quando apriamo la console, ecco qua che ci compare il messaggio oggetto creato. Quindi l'oggetto è stato creato correttamente e il costruttore è stato richiamato in automatico. Infatti a noi è bastato creare il nuovo oggetto e il costruttore non l'abbiamo richiamato noi manualmente, ma si è autorichiamato nel momento in cui abbiamo creato l'oggetto. Bene, per ora è tutto. Nel prossimo video approfondiamo il costruttore e come creare una classe utente. Se avete domande lasciate un commento qua sotto. Se invece il video vi è piaciuto mettete like per supportarlo con l'algoritmo di YouTube. E noi ci vediamo nel prossimo video.